eccoci qua vediamo un po se siamo in diretta penso di sì aspettiamo qualche secondo buongiorno a tutti non ci vediamo da un po di tempo da addirittura da qualche mese se non se non ricordo male l'ultimo video risale a qualche tempo fa in cui parlavamo di resto a sud aspettiamo qualche secondo che oggi vi do qualche aggiornamento relativo a questa questa misura una giornata un aggiornamento importante perché ci sono stati degli sviluppi su questa su questa ormai famosissima misura di finanza agevolata vediamo un attimo se mi ascoltate bene se l'audio è ottimale se qualcuno gentilmente come al solito mi scrive nei commenti che l'audio si sente altrimenti inutile che vado avanti aspettiamo ancora qualche secondo è importante che la voce almeno la sentiate bene aspettiamo ancora qualche secondo nel frattempo mi sistemo questo cucino allora allora innanzitutto oggi 14 agosto quindi molti di voi saranno in vacanza auguri di buone vacanze un 14 agosto caldissimo però anche oggi ho approfittato di questa diciamo questo momento di pausa per fare questo video in diretta e parlarvi di questo importante questa importante novità che sta questo fenomeno che si sta verificando con questa misura restosso di motivi ostativi qualche giorno fa se non ricordo male il 6 agosto del 2021 è uscito anche un articolo sul repubblica con una interessante intervista di delise il presidente del dell'unione giovani commercialisti ed esperti contabili italiani che denuncia questo strano fenomeno che sta accadendo quale questo fenomeno è che da qualche mese si è innalzata la restrizione all'accesso alle domande restosso ovvero stanno arrivando molte bocciature detta in maniera papale papale diciamo hanno stretto diciamo le le porte all'ingresso di questa di questa misura e quindi qualcuno già si è iniziato a far sentire perché sta accadendo questo perché stanno arrivando più bocciature rispetto al passato molti di voi ci hanno anche scritto ci avete segnalato la comunicazione di questi motivi ostativi che non vi hanno consentito quindi di accedere ai fondi e effettivamente da quando è nata questa misura è la prima volta che capita una cosa del genere quindi stiamo notando abbiamo letto a volte anche alcune dei vostri motivi è una presa in giro vabbè non vediamo adesso ne parliamone parliamone vediamo un attimo cosa sta accadendo stesso io stesso noi qui allo staff nello staff fin start ci siamo posti due domande perché in effetti è strana come cosa quindi analizziamo ragioniamo a voce alta come mi piace fare all'inizio qualche settimana fa qualcuno tra i colleghi e comunque nel settore si diceva che la motivazione era dovuta a una alla scarsità di fondi molti dicevano no perché i fondi si stanno esaurendo e quindi stanno rigettando molte domande ma non è così infatti se andate sul sito di invitalia noterete in tutta la trasparenza che sono citati i fondi disponibili del famoso miliardo e 250 milioni di euro disponibili quando è nata quando sia questa quando è nata questa misura resto sud ne sono stati utilizzati soltanto si fa per dire 450 480 milioni quindi capirete che quasi due terzi della totalità dei fondi disponibili sono ancora inutilizzati sono ancora lì pronti per essere erogati quindi la motivazione non sta nel nel fatto che i soldi sono finiti quindi qual è il motivo di questa ondata di bocciature il motivo è da ricercarsi secondo me in altre in altre cause in altre motivazioni ora senza voglio dire andare a leggetevi intanto l'articolo che è molto interessante andate sì certo davide puoi chiedere un'informazione se è particolare puoi scriverci in privato o mandando una mail a studio finstart chiocciola gmail.com e cerchiamo di risponderti nel più nel più breve tempo possibile dicevo quindi la causa è da ricercarsi in altre motivazioni quali sono queste motivazioni allora se vi ricordate all'inizio del 2021 in un video che ho pubblicato sia su youtube che qui sulla nostra pagina finstart espressi mi sembra proprio a gennaio del 2021 espressi delle perplessità delle personali perplessità quando aumentarono allargarono la platea agli under 56 ora nulla togliere ai 50 anni 52 anni 55 anni che hanno tutto il mio massimo rispetto però è chiaro che se i fondi hanno ovviamente un tetto limite allargando la platea a più persone della popolazione e allargando la misura anche ad altri settori merceologici o anche ai liberi professionisti è chiaro che ci saranno più persone che chiederanno questi fondi e della coperta essendo quella da qualche parte dovranno pur tagliare i fondi quelli sono sono limitati ripeto questa è un'ipotesi non è la la motivazione questo è un mio modesto parere che da quando hanno allargato la platea all'inizio se vi ricordate era gli under 35 l'accesso a questa misura resta assurda poi l'hanno allargata gli under 46 da quest'anno dall'inizio del 2021 agli under 56 ora se i fondi restano quelli io spero e mi auguro di no naturalmente che la misura verrà rifinanziata con questo flusso di denaro che sta arrivando e che in parte è già arrivato adesso se abbiamo 5 minuti parliamo anche di questo dovrebbero rifinanziarle e quindi il problema non sussiste con questo cosa voglio dire che probabilmente hanno deciso di essere più cauti nel concedere i finanziamenti a tutti indiscriminatamente senza fare troppe distinzioni perché appunto c'è stato un aumento indiscriminato di richieste di finanziamento tramite questa misura causa covid quindi causa crisi finanziaria ed economica molte persone si sono cimentate in autonomia a chiedere a presentare questa domanda non avendo alla base dei requisiti soggettivi ed oggettivi e quindi in vitalia si è un po' diciamo chiusa in se stessa probabilmente probabilmente e quindi se prima approvavano 4 5 progetti su 10 presentati oggi magari ne approvano uno forse due progetti ed ecco perché molti di voi stanno ricevendo questa comunicazione questa comunicazione di motivi stativi quindi una bocciatura in buona sostanza cosa succederà come vedete qualcosa già si è mosso intanto dopo leggo i vostri commenti vediamo antonio grazie uno istruzionismo pazzesco allora vediamo un po se riesco a leggere allora tu sei una persona competente preparare mi piacere assistere al detto dire grazie tuttavia c'è uno istruzionismo pazzesco e se non hai soldi non puoi fare nulla io resto al sud se mi aiuti ad avere i soldi ad aprire un'attività le banche fanno ciò che vogliono e non aiuto le banche quante volte ne abbiamo parlato abbiamo parlato un sacco di volte anche del problema delle banche come se non bastasse ci si mette anche in vitalia alla fonte quindi già avevamo prima il problema delle banche adesso anche resto in vitalia con resto al sud quindi oggi è diventata veramente difficile ciò nonostante voglio fare questo video per tranquillizzarvi è anche il nostro lavoro quindi voglio dire sarebbe un problema anche per noi però state tranquilli perché io credo che sia una cosa passeggera questo questa restrizione che sta che sta che si sta verificando nelle valutazioni delle domande ad invitalia a roma perché innanzitutto vedo che qualcuno già si è fatto sentire ripeto il presidente dell'unione giovani commercialisti che ha denunciato questo strano fenomeno e ha chiesto per settembre o quanto prima un incontro un tavolo d'incontro con i vertici di invitalia ovvero con il ministero dello sviluppo economico credo e spero ci sarà i primi di settembre questo incontro per discutere appunto di questo di questo problema dalle segnalazioni che abbiamo ricevuto noi della finstart e da altri colleghi abbiamo notato che in effetti la maggior parte dei motivi ostativi sono riconducibili al colloquio questo colloquio istruttorio che viene effettuato dopo aver inviato la domanda cioè voi preparate la domanda una volta inviata la domanda dopo qualche settimana ricevete la convocazione al colloquio ovvero invitalia vuole ascoltare ascoltarvi quindi vuole capire la vostra idea di business come la raccontate tutti i vari aspetti non a caso noi già molti mesi fa abbiamo lanciato il nostro servizio per la preparazione al colloquio istruttorio di resto al sud perché già capivamo che c'era qualcosa nell'area all'orizzonte che stava per succedere quindi è molto importante essere preparati anche per quanto riguarda il colloquio istruttorio che parte integrante di tutta la valutazione del progetto di impresa quindi non è sufficiente fare soltanto un buon progetto ma è necessario anche fare un buon colloquio quindi condurre un buon colloquio perché parte integrante di tutta la valutazione e come dicevo ho notato che la maggior parte non tutti ma la maggior parte dei motivi ostativi arrivati in questi mesi in queste settimane a molti di voi riguardano il colloquio istruttorio ovvero alcune volte viene detto che in sede di colloquio istruttorio il candidato, il proponente, l'aspirante imprenditore non ha saputo esprimere bene il suo progetto e spiegare bene il suo progetto di impresa con delle lacune inerenti a alcuni aspetti dell'idea imprenditoriale dell'iniziativa che possono essere l'analisi di mercato piuttosto che l'analisi della pressione concorrenziale oppure gli aspetti economico finanziari su quest'ultimo punto ovviamente c'è da arrabbiarsi perché ovviamente un imprenditore non è detto che debba essere un esperto di economia o di contabilità quindi quando il valutatore di Invitalia boccia una domanda perché il candidato non ha saputo spiegare bene l'attività dal punto di vista economico finanziario spiegando le partite e le poste di bilancio è chiaro che c'è da arrabbiarsi e si deve capire l'arrabbiatura dell'aspirante imprenditore che si vede bocciare la domanda per questo motivo se io faccio il falegname o il carpentiere o il pizzaiolo piuttosto che produco scarpe dove sta scritto che io debba essere un esperto contabile e infatti in questa intervista denuncia fatta su Repubblica sull'inserto finanza di Repubblica il presidente dell'Ise denuncia proprio anche questo il fatto che si percepisce un'ostilità anche verso noi consulenti ovvero invece che essere visti come elemento di vantaggio per l'intero paese e quindi andatevi a leggere l'intervista che utilizza proprio queste parole elemento di vantaggio per l'intero paese e per gli imprenditori che sono alla ricerca di fondi per avviare o sviluppare la loro attività imprenditoriale vengono visti invece come motivi di ostruzione per la presentazione della domanda cioè si nota, si percepisce una certa ostilità tra i valutatori e i consulenti che aiutano gli imprenditori a presentare la domanda non dovrebbe essere così naturalmente perché i consulenti sono quelli seri ovviamente quelli esperti e preparati stanno lì per aiutare semmai gli imprenditori per disincentivare alcuni aspiranti imprenditori che non hanno i requisiti oggettivi e soggettivi per sviluppare o avviare quel tipo di attività e quindi disilludono magari persone che si improvvisano a fare una determinata attività risparmiando loro tempo e soprattutto denaro risparmiando loro una fatica immane evitandogli magari di rischiare di gettare al vento migliaia decine di migliaia di euro di investimento quindi il consulente deve essere visto con favore non come un nemico per invitare per la presentazione di queste domande di finanziamento agevolato resto assurdo come per altre ovviamente misure di finanza agevolata comunque questo è quello che sta accadendo si sta verificando già da qualche mese credo dalla primavera ma ripeto io già da gennaio del 2021 andatevi a rivedere quel video già pressi questa mia perplessità quando iniziarono ad aumentare diciamo la platea dei beneficiari quasi a tutti ed era inevitabile in periodo di covid e di crisi che tutti la maggior parte si fiondavano a chiedere questa misura Davide non aspetta se mi hai scritto qua Davide ok scusami ok ti rispondo subito vediamo allora la banca la prima volta mi ha bocciato la pratica e ci siamo rivolti direttamente a MCC ieri mi è arrivata un'email dicendomi che la mia pratica è stata accolta ok Davide qual è la domanda? aspetta forse devo andare indietro ho fatto richiesta di finanziamento a MCC direttamente adesso cosa succede ok allora non succede non succede nulla la domanda è stata accolta perfetto quindi adesso è MCC che tramite PEC comunicherà con te quindi dovrai è probabile non è certo ma è probabile che MCC ti chiederà di versare un impegno pari al 10% o 5-10% aspetta il 10% della parte di mutuo vincolato però non è detto che capite ad alcuni l'hanno fatto ad altri no e aprirà un conto corrente virtuale perché non dovrai recarti fisicamente in nessuna filiale MCC lavora solo online e quindi tramite PEC loro ti indicheranno tutta la procedura quindi già è importante che la domanda ti sia stata accolta da MCC quindi hai raggiunto il traguardo si può dire perché adesso è solo una questione di tempo e di scartoffi che andranno avanti e indietro ma la domanda se mi dici che è stata accolta il problema l'hai ampiamente risolto quindi adesso MCC ti aprirà il conto dedicato e vincolato il conto dedicato presso cui già sai che dovrai far confluire tutti i flussi finanziari in entrata e in uscita relativi all'investimento quindi se per esempio ti è stato ammesso alle agevolazioni un investimento pari a 100.000 euro quindi quei 100.000 euro ti serviranno per pagare i tuoi fornitori devono transitare su quel conto corrente dedicato che ti aprirà medio credito centrale niente devi semplicemente attenerti alle indicazioni che ti darà MCC ovviamente ci sono degli aspetti tecnici dei documenti da preparare mi auguro che tu abbia un bravo consulente che può assisterti e ti può supportare anche perché velocizzerai la tempistica se ti affidi a un consulente di parecchio perché a volte mi rendo conto che sono documenti ostici un po' più diciamo difficili da compilare se hai difficoltà ci scrivi e cerchiamo di in ottemperanza gli impegni di tutti cerchiamo di aiutarti noi direttamente però anche in questa fase ti consiglio di affidarti a un bravo consulente perché sebbene diciamo gran parte del lavoro sia stato fatto quindi la domanda in vitale ti è stata accettata a MCC che è l'aspetto bancario ti è stata accolta adesso dovrai compilare una serie di documenti ora dipende dalla fretta che hai se non hai fretta vai tranquillo procedi seguendo le indicazioni che ti fornirà il consulente di medio credito di centrale che probabilmente ti avrà già anche contattato telefonicamente oppure per velocizzare i tempi puoi affidarti puoi affidarti a qualche bravo consulente della tua zona il 10% della parte di MUT no no del totale della parte di MUT esatto se per esempio ti è stato finanziato scusa ti è stato ammesso alle agevolazioni da Invitalia 100.000 euro sappiamo che 50.000 euro sono rappresentati da MUT e quindi il pegno eventuale non è detto che te lo chiedano ma il pegno eventuale di 10.000 euro è sulla parte di MUT quindi sui 50.000 euro non sul totale allora allora vediamo un po' vabbè comunque era sottinteso che quindi l'audio si sente mi avevo richiesto allora benissimo eh ragazzi chiedo scusa eh figurati Davide grazie a te mi dispiace non essere stato presente in questi mesi in queste settimane veramente mi rendo conto sono vergognoso sono stato lontano dal web per per tutto questo tempo e nonostante qualche messaggio qualche sollecito da qualche affezionato eh ragazzi scusate ma veramente non cioè è stato un periodo molto particolare intenso di lavoro e quindi non ho avuto proprio il tempo eh benché io stavo sempre lì col cellulare ora lo faccio il video ora lo faccio il video ora lo faccio il video per un motivo o per un altro non sono riuscito però eccomi qua dai allora vediamo Gennaro salve una volta ottenuta e caricata la delibera favoribile della ups cosa ho fatto aspettate non vi muovete eccoci qua una volta ah però allora una volta ottenuta la carriera del video favorita della banca entro quanto MCC da esito in quanto ad oggi non è arrivata ancora nessuna comunicazione la delibera accomedata primo luglio eh no no tranquillo Gennaro Gennaro giusto sì c'è da aspettare un po' eh non non temere primo luglio è una data diciamo non non lontana eh è un mese e mezzo però considera che questo è un periodo particolare in vitale per esempio è chiusa adesso è ferma dal 9 agosto mi sembra per una decina di giorni è chiusa MCC altrettanto le banche sono aperte ma voglio dire istituzionalmente aperte ma non eh vanno molto a rilento quindi questo è un periodo di ferie considera che primo luglio sì per fine per fine agosto inizio settembre dovresti avere sicuramente una una prima risposta perché tu mi hai detto che la la delibera l'hai caricata in piattaforma credo di capire bene se la delibera l'hai caricata in piattaforma eh il prossimo passo è i modelli B e C che devi caricare quindi MCC eh ti ti chiederà di compilare due modelli la banca in questo caso chiederà di compilare due modelli il modello B e il modello C relativo al conto interessi però ma considera tu controlla la PEC ogni almeno ogni due tre giorni ma passato ferragosto verso la fine del mese dovresti avere risposta se per fine mese non dovresti ricevere una risposta ti consiglio di sollecitare tramite PEC sempre la PEC è l'unico strumento valido di comunicazione sia per Invitalia che per le banche e quindi anche per MCC ma vedo che molti state caricando le domande con MCC e in effetti anche questa era una conseguenza quasi logica visto che le banche già da qualche già dall'anno scorso stavano creando non poche difficoltà per i beneficiari delle domande quindi avete fatto benissimo anche se MCC voglio dire non è una garanzia di accettazione se ci sono dei problemi sottesi dal punto di vista soggettivo magari di qualche problema passato dal punto di vista di cura e creditizio è chiaro che anche MCC fa problemi però essendo una banca virtuale si tagliano un sacco di fastidi creati allo spostamento alla visita in filiale in agenzia magari becchi il funzionario un po' più ci siamo capiti e quindi lavorando tramite PEC tramite mail e telefono si risolvono non pochi problemi e mi taccio qui quindi mi fa piacere che almeno voi stiate risolvendo così se avete difficoltà anche in questa fase non è rendicontazione ma è una fase post-approvazione con le banche ci potete scrivere o comunque rivolgetevi al vostro consulente se lo ritenete affidabile ed esperto di queste procedure di finanza agevolata anche con le banche quindi dicevo ragazzi non temete non vi preoccupate perché è un periodo passerà non credo duri ancora per molto perché i fondi ripeto ci sono del miliardo 250 milioni di euro stanziati per questa misura Resto al Sud ne è stato utilizzato solo fra virgolette si fa per dire un terzo quindi ci sono ancora molti soldi disponibili se si tornasse alle vecchie regole vecchie di un anno e mezzo fa della normativa Resto al Sud di un anno e mezzo fa sarebbe meglio ok i fondi lì sarebbero diciamo erogati in maniera un po' più snella come era come era prima però in ogni caso come capire è diventato ancora più difficile oggi presentare ed ottenere la missione alle agevolazioni quindi è necessario arrivare preparati non solo per la presentazione della domanda quindi figura di Gennaro grazie a te non solo per la presentazione della della domanda ma anche soprattutto direi per la preparazione al colloquio istruttorio quindi è molto importante arrivare preparati su ambe due fronti come sapete noi della Finstart abbiamo lanciato già da molto tempo i relativi servizi per la preparazione della domanda che ormai conoscete bene il videocorso che si chiama la chiave del finanziamento che vi consente di preparare correttamente tutto il format di domanda insieme ad un nostro progettista della Finstart o insieme a me personalmente e il servizio relativo alla preparazione al colloquio istruttorio che verrà effettuato naturalmente dopo l'invio della domanda dopo l'invio della domanda verrete convocati al colloquio con i valutatori di Invitalia e in quel caso anche in quel caso è necessario arrivare preparati è un piccolo investimento che però vi consente di ottenere decine di migliaia di euro e soprattutto di risparmiarvi denaro soldi tempo speso nel ripresentare la domanda nelle incazzature nel chiedersi perché mi hanno bocciato la domanda perché mi è arrivato questo perché mi è arrivato quello se avete la possibilità io ci rifletterei sì Gennaro dimmi certo se è lecito in pubblico sì altrimenti ci scrivi mi scrivi in privato o tramite mail studiofinstart chiocciola gmail.com quindi ripeto i nostri servizi come vedete sono ancora attivi non abbiamo aumentato il prezzo di nessuno di essi né del videocorso né della preparazione al colloquio né della consulenza privata che è rimasta 97 euro noi annunciammo che era un'offerta limitata nel tempo ma a causa covid causa tutti questi eventi sfavorevoli abbiamo deciso di bloccare i prezzi quindi lasciarli invariati quindi sia la chiave del finanziamento cioè il videocorso per la preparazione del format di domanda resta a sud la preparazione al colloquio e la consulenza privata di un'ora con un nostro esperto sono prezzi rimasti invariati nella sezione shop della nostra pagina finstart troverete ovviamente il link per andare via legge basta cliccare non pagate nulla ci sono tutte le informazioni dei vari servizi i prezzi e quant'altro se avete dubbi ci iscrivete allora gennaro dimmi sulle fatture future oltre al codice del progetto dovrà essere esserci anche il cup sì esattamente dovrà esserci anche il cup queste sono diciamo fasi nella rendicontazione il cup lo trovi nel provvedimento di concessione ok comunque sì dovrà esserci anche il codice cup la stampigliatura delle fatture molto importante è questo come vedete per esempio questa cosa che mi ha chiesto Gennaro è una piccola parte una goccia in un mare ovviamente delle procedure della rendicontazione cioè della fase ultima del processo di erogazione del finanziamento perché come sapete del finanziamento una parte viene erogata dalla banca l'altra metà verrà erogata da invitale a fondo perduto però per essere erogata in massimo due step necessita di una procedura di rendicontazione delle fatture pietanzate o non pietanzate quindi pagate o non pagate da parte dei fornitori ed è importante anche stare attenti a questi piccoli aspetti che presi singolarmente potrebbero sembrare stupidaggini che però quella piccola stupidaggine magari se omessa rischia di mandare al vento il lavoro fatto e quindi di non ricevere i soldi da invitale perché invitale ovviamente se non è tutto fatto a perfezione rigetta la richiesta di bonifico quindi di erogazione del fondo perduto e vi fa ripetere tutta la procedura da capo quindi per questo vi dico è molto importante arrivare preparati su tutti i fronti quindi su tutti i aspetti della parte iniziale della presentazione della domanda al colloquio istruttorio e anche nella fase successiva di rendicontazione per ricevere praticamente materialmente i fondi sul proprio conto corrente quindi affidarsi a un consulente esperto della materia esperto in finanza giurale è molto importante ecco perché anche noi della FISALT abbiamo lasciato i nostri servizi invariati i prezzi invariati non li abbiamo aumentati sono rimasti quelli quindi il mio consiglio è affidatevi a esperti della materia nel nostro caso se vi affidate con noi dall'A alla Z naturalmente riceverete un pacchetto più conveniente se non prendete singolarmente i vari servizi ma magari volete affidarvi a noi dall'A alla Z sia per la preparazione della domanda che per la preparazione al colloquio e la fase successiva naturalmente vabbè era ovvio però ve lo dico non acquistate singolarmente i singoli servizi magari ci contattate ce lo comunicate vi faremo un'offerta complessiva che naturalmente è più conveniente rispetto a comprare vabbè vi ho detto una cosa mi sono dato un'ennesima zappa sui piedi però questa è la dimostrazione che non ho alcuna belletà il nostro interesse è quello di aiutarvi ad ottenere i fondi i fondi stanziati va bene signori oggi mi sono trattenuto abbastanza volevo augurarvi buone vacanze volevo rassicurarvi che nonostante si stia verificando questo periodo particolare con Invitalia di stare tranquilli perché qualche rappresentante di noi consulenti si sta già facendo sentire ha chiesto un tavolo di incontro con i vertici del ministero quindi mi auguro e spero che da settembre le cose cambieranno favorevolmente per tutti perché i fondi ci sono quindi non date retta a chi dice che è una presa in gira perché i soldi sono finiti non ci sono non è vero perché se così fosse avrebbero già chiuso la domanda ma se andate sul sito invitalia.it in tutta trasparenza sono scritte queste informazioni quindi ci sono scritte ovviamente vengono aggiornate di mese in mese o di bimestre in bimestre ma sono ben descritte le risorse disponibili quelle utilizzate e quelle ancora da stanziare quindi i fondi ci sono la causa è da cercarsi in altre cose è necessario già lo era prima oggi ancora più di ieri è importante arrivare preparati alla presentazione della domanda quindi scriverla in maniera corretta presentare durante il colloquio istruttore la domanda in maniera esaustiva completa e corretta e soprattutto coerente e non farsi trovare impreparati perché questo? perché in vitalia oggi purtroppo sta stringendo la cinghia quindi è importante la concorrenza si è fatta più dura più ostica perché hanno allargato la platea quasi tutti quindi c'è molta più concorrenza rispetto all'anno scorso e quindi solo chi arriva preparato chi si affida magari a consulenti esperti che possono aiutarli a bruciare le tappe e a presentare in maniera corretta la domanda riusciranno ad ottenere i fondi quindi a raggiungere il loro scopo come sempre se avete domande potete scriverci in privato o tramite mail studio finstart chiocciola gmail.com i nostri servizi sono sempre disponibili nella sezione shop o basta cliccare su andate pure su youtube mi trovate lì con i vari link se li volete prendere bene se non li volete prendere va bene lo stesso ci scrivete cerchiamo di aiutarvi tramite tramite mail va bene signori buona giornata buon sabato buone vacanze ciao